Brum, 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 dimmi Fere. Mettila, dai, sei solo in un sogno, smettila di fare i disastri. Solo in un sogno? Ma guarda cosa ti faccio, alzo questo, lo riabbasso e faccio tutte le cose nel mondo perché sono il capocantiere di questo bellissimo posto. Esatto, te, nei tuoi sogni. Sei soltanto gelosa, Fere. E ragazzi, come va? Io sono Fere. E io sono Stef, che se giochiamo a suicide, guys. Ed eccoci qua prontissimi a continuare le avventure all'interno dei nostri sogni. Vorrei far notare che toghi sei al plurale invece che al singolare. Non so, ho deciso che eravamo al plurale, oggi è una giornata al plurale. Allora, 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 siamo nei cantieri e siamo subito entrati, giusto, per iniziare a dare uno sguardo, ma ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla. Allora, come avete già visto dal pre-intro, possiamo guidare questo bel veicolo di cui non so il nome e non voglio stare a discutere del nome. Muletto, brava, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, non mi aspettavo che lo sapessi. Allora, ti volevo far vedere. Non so neanche io come faccio a sapere, ma vabbè. Subito una cosa che ho notato. Ok. Se io entro qua in retromarcia e poi, no, non posso. Ok, subito tolto, subito tolto. Era un bel tentativo però, eh. Perché se tu noti, se noi saliamo qua e azioniamo la leva, possiamo salire qui sopra. Ok, sì, certo. Ok, e qua c'è una bella scatola che ci possiamo portare di sotto. Però, qual è il nostro obiettivo? Questo mi sugge ancora. Io ho notato questo pistone gigante. Esatto, sembra una pressa, quindi. Che mi sembra un bel modo per, diciamo, fare interrompere un sogno. Quindi potrebbe già essere una buona idea. Lì c'è un'altra scatola, la vedi? Eh sì. Ok. E con due scatole cosa? E sinceramente no. Ce le mettiamo in testa le scatole? No, no, allora non sto capendo. Perché ok, sì, ho visto le scatole. Ho capito che sicuramente serviranno per qualcosa, ma non sto proprio capendo dove andrebbero messe. Non vedo posti dove arrampicarsi o cose del genere. Siamo in due, Fere. Direi di andare a recuperare l'altra. Perché tanto è ovvio che ci servono entrambe. Secondo me su quello non ci sono grossi rubi. Uh, però aspetta. Qua c'è la statueta. È chiusa. C'è la statueta. Fere, Fere. Hanno messo una porta tra me e la statuetta di questo sogno. Non ti vogliono dare la statuetta. Mi dispiace per te. Allora, pensiamo alle scatole per adesso. Uh, eccolo. Guarda. Ah, sì. C'è un bottone. Sì, sì, sì. C'è il bottone, ragazzi, è lì. Quindi, ovviamente, con quel bottone, pistone. Ok, di conseguenza ci servono due scatole per riuscire a salire qui sopra. Dai, Steph, facci vedere. Opla. Ok. Io adesso me la porto con me. Guarda. Devi abbassare. La mia idea è che se io faccio... Capito? No, Steph, non funziona la sua idea. Secondo me no. Allora, come faccio? Scusa, non ti basta la scatola per poi salire lì sopra? Secondo me no, è quello. Dici troppo basso? Allora, metti la media altezza. Non lo puoi regolare? Non posso. Ok, ok. Vedi, allora, guarda. Ta. No, sì, 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 sì. Aspetta, però. Oppure dai tubi, dalla parte dei tubi. No, ho un'idea. Ho un'idea. Guarda, eh. Adesso ti faccio vedere. Questa è l'idea più bella dell'anno. Ok. Io mi metto qua così. Ok, vediamo se hai capito. Vuoi farlo, vuoi usarlo come rampa, ma... Non lo so se ci puoi proprio salire. Sì, invece, sì. Ok. Yes! Non so come ha funzionato. Fere? Non so come ha funzionato. Fere? Sei molto simpatico. Grazie. Dai, andiamo. Ammetti che sono stato bravo, dai. No, no. Non so se funzionerà, Fere. No? Però sai, secondo me, che devi fare? Metterle una sopra l'altra, poi ti ci arrampichi e sali di sopra. E come faccio a metterle una sopra l'altra? Allora, fai una cosa. Metti la seconda scatola, quella che sta in terra proprio attaccata, e la fai cadere sopra. Vado? Se non mi funziona. Provo? Sì, vai. Vediamo. Passa. Pensavo non avessi funzionato. No, praticamente è scomparse e è riappassata. Esatto. Allora. L'importante è che abbia funzionato e che steppi... Ui, yes! Bene così. Ora sì che sono felice. Allora, a questo punto... Stessa cosa per quello. Secondo me, sai che non è abbastanza in alto anche così? Cioè, io ci provo, per carità. Però, questo presentimento... Tacchete. Tacchete. Ok, perfetto, perfetto. Tacchete, tacchete, tacchete ed eccoci qua. Premo il... Ok, è straveloce. E come faccio? Eh, quello è il problema. No, non ce la fai a buttarti, è troppo veloce. No, 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 no. Non ce la fai. Non provare a criticarmi. Eh, io gli dico le cose, non mi ascoltano. Io, allora, riascoltatevi tutto. Io ho detto, Steph, prova a prendere il bottone. No, non funziona. Non mi ascolta. E invece si poteva prendere, guarda, due ore per fare questo livello solo perché sei un testardo incredibile, guarda, eh. Non ci sto ascoltando. Uh, bello, bello, bello. Facciamo un sacco di rumore così per i sedimenti. Spero che ci sia una gru che ti schiacci, però a te, totalmente. Nella realtà, neanche nei sogni, nella realtà... Guarda, guarda, Fere, guarda, guarda, guarda. Senti, no, non ti ascolto più. Premiamo questo. Bravo, Steph, non succede nulla. Allora, sicuramente dobbiamo azionare qualcosa corrente. Ok, va bene, va bene, va bene. L'accetto, l'accetto. Posso anche guidare? Carino. E qua c'è una X. Per ora parcheggiamo sulla X e speriamo che vada bene. Esatto. Bene, in effetti, questo è uno, come si dice, uno sfasciacarrozze. Esatto. Quindi probabilmente con la calamita dobbiamo prendere la macchina. Qui c'è una X. Ok. Lì c'è una X. E siamo tutti delle X. Non capisco, Steph. Anche io. Allora, però ti volevo farne vedere una cosa che magari potrebbe essere utile. Non lo so, eh. Non ne ho la più pallida idea, però secondo me è quanto meno interessante. Vedi che lì c'è una scaletta? Eh, lo so, l'ho vista, però come ci arriviamo? E a che serve, soprattutto? Non lo so, anche per questo. Questo bottone combina qualcosa. Schiaccialo. Guarda dentro. Ah. Eh sì. Eh sì. Aspetta. Aspetta. Ok. Teoricamente noi se finiamo lì dentro moriamo. Sì, quello sì. Però allora a cosa serve la X sopra tutte le macerie? Esatto. A cosa serve? Proviamo qua. Prova. Così. Vacci. Ok. Vacci, vacci dentro. Ma hai qualche idea? No, però vacci. Sì, sì, sì. La usiamo come rampa e finiamo lì dentro. Dentro quella cosa che pressa. Cioè? Allora gira, guarda. Aspetta, fammi. Allora tu entra. Ti lanci qua. Boom, lì dentro. Canestro. Dici? Sì. Sì, secondo me sì. Guarda che se è zeccato, Fere, oggi hai vinto tu. Lo so. Tutta la vita, eh. Ma che è tutti i giorni. Secondo me così. Vado a bomba. Io vado a bomba. Io ci credo in questa tua teoria. Io ci credo. Oh. No. Ma come? Ma come? Però era perfetta. Era perfetta. Non è giusto. No. Che tristezza, cavolo. Ma dai. Però c'eravamo, quindi è la giusta soluzione questa. Penso proprio di sì. Io vado, Fere. Sto provando a dire qualcosa. Io vado, io vado. Vai. Molla. Ok. 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 Però non è male. Eh, no, 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 no. Noi siamo finiti qui sopra, però chi è che può attivare il pulsante? Eh, bella domanda. La macchina sembra fatta apposta per cadere, ok. Però noi possiamo, ok, scendere qua, va bene. Ah. Hai capito? Certo. Io non ho capito. Certo. Dimmi. Certo, così è un pareggio. È lento. Quindi noi attiviamo e facciamo tutto di fretta. E riusciamo a scendere prima che ci schiacci. Ma davvero? Penso proprio di sì. Dici che si faccia corretta. Se è così, questo batte il livello della balena e diventa il più bello. Ok. Dai, proviamo. Ha senso, però. Vero? Sì, sì, ha senso. Credo che faccia. Pieno a pieno ci siamo arrivati con... Credo che fa. ...evento le nostre venti. Credo che fa. Tacchete, tacchete, tacchete. Dai, ce la facciamo stavolta. Ce la facciamo. Devo correre tanto, eh. Ma dai, ma ti sembra che... Allora, di solito tu nei sogni... Fere! Riusci a superare il sogno. Corro! Vai, vai, vai! Signori! Più veloce! Steph corre! Si incastra già! Vai, Steph, ce la puoi fare! È un disastro con questa corsa! Dovrei fare un po' di dieta! Ok, giro la macchina! Comunque dobbiamo lasciare anche la macchina già girata. Lo so, lo so, lo so. Quella è una delle poche cose che posso fare per migliorare il tempismo nel caso in cui non facciamo in tempo. Ma no! Per pochi! Ti prego! Per colpa della nostra pancia! No, cavolo! Oh, che tristezza! Ok, macchina già pronta a partire. Questo è il nostro giorno, ce la facciamo, ne sono sicurissimo. Allora, pronti? Sì, via, 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 via! Corri, 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 corri! Non ti incastrare nei tubi! Infatti prova a passare da qui. Opla! Ok, molto meglio. Molto meglio, molto meglio, molto meglio, molto meglio, molto meglio. Ta, ta, dritti! Eh sì, almeno la metà del tempo ci ho messo. Opla! Scendi! Scendo! Bravi! Bravi! È stato davvero bello questo livello. Bello, intenso, emozionante. Mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un sacco. Bravissimi! Bravissimi! Che figata pazzesca! Che belli, stile belli. Che belli! E questo era solo il 14. Cioè, per l'incremento che sta avendo, sta diventando una figata. E oltretutto, io voglio dire un'altra cosa. Ah, che bello, mio Dio. Cos'è? Magia! Volevo dire una cosa velocemente, che questo gioco è stato fatto da un ragazzo italiano. Ed è bellissimo, cioè, è fatto da un solo ragazzo e ha fatto una figata pazzesca. Lo volevo dire perché è davvero bello. L'abbiamo scoperto dopo averlo portato. Oh, mi sento a casa. Dobbiamo fare le macchie. Dobbiamo fare il calderone. Sì. Gallina più coniglio più topo. No, Steph. Gli animali no. Più osso più libro uguale morte. Gli animali no. Farei un sogno. Ma non me ne frega se non so. Aspetta. Allora, dobbiamo catturare un topolino. Con il formaggio prendiamo un topolino. Ma qua possiamo... Aspettate un attimo. No, eccolo, l'hai visto? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Vieni, topolino. Vieni. Lo devi mettere vicino. È per te, topolino. Non riesce. Vai, vai, vai. Chiappalo, chiappalo, chiappalo. Ok. Ah, che bellino. Ma non lo metto. Sembra un cricetto. Dai. Vai, vai. Bravo, così. Io ti odio, Steph. Sembrava un cricettino. Devo fare quello che mi ha fatto, ok? Ma dai. Ma è di cioccolato questo armadio? Sembra una barretta di cioccolato. Che buono. No, più che altro. Ok, ho trovato il topolino. Steph. Dimmi. Mi predici il futuro? No. Il topolino lì, non lo sai predire? Allora, avrai una brutta vita. Ah, il pollo per fortuna è di plastica. Perfetto. Va bene anche quello di plastica. Ok, vai. Perfetto, così. Solo il cricettino topolino c'è passato. Poi il coniglio. Dove dovremmo trovarlo un coniglio? Non ne ho idea. No, mi sa che devo spostare il mobile. Dici? Vediamo? Vedi? Sì, sì, sì. Poi mi accuccio. Ok, vai, 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 vai. Ma povero coniglio. Vieni qui che andiamo a fare un giochino insieme. Vieni, cuci, cuci, cuci. Vieni qua che ci divertiamo, sciacco. Sci, sci, sci. Abbiamo una pozione da preparare e ti piacerà tantissimo. Scappando come se non ci fosse un domani. Oh, che bravo. Come collabora il nostro coniglio, non collabora nessuno. Coniglio pronto. Perfetto, così. Cosa abbiamo fatto? Allora, cosa manca? Un osso e un libro? Un osso e un libro, ok. Beh, il libro teoricamente sarà dentro casa, no? Ah, questo sarà il libro, Ferè. Vedi? Ah, allora ricordiamoci che manca l'osso. Dobbiamo trovare solo l'osso. Andiamo a prendere l'osso e poi mettiamo il libro, no? Sì, no. Per sicurezza. Allora, facciamolo in ordine come lui ce lo chiede, perché non si sa mai. No, l'ordine non l'ho già dispettato fino a subito, però dai. Credo che non romperà le scatole. Oh, eccola. Grazie. Me ne stavo già dimenticando perché è talmente figo questo livello che mi ero dimenticato io della statuetta. Cioè, il che fa capire tante cose. Allora, è probabile che comunque possiamo trovare qualche osso in giro, qualche ossicino. Secondo me? Guarda, io cosa ti ho detto che dobbiamo scavare e trovare l'osso di qualcuno? Ok, ma non mi hai detto? Stef, guarda, lì c'è la pala. Mi hai detto? Allora, concentrati e cerca di trovare un pezzo di terra che ti sembra scavato. Capito? Ok. Se gravi ci stava portando il coniglio prima, quindi io seguo la strada del coniglio di prima. No, qui no, Stef. No? Che sono brutti posti questi. Ma stai zitta. Vabbè è un posto più bello. Ed eccoci qui. Prendiamo il nostro osso e pensiamo a finire la nostra pozione mortale. Su, su, su. Che bello. Questo è il livello davvero carino. Promosso al 100%. Opla. Dopodiché prendiamo anche il nostro amatissimo libro. Chiudilo. Chiuditi. Vai dentro. Perfetto così. Ci beviamo la pozione. L'abbiamo bevuta? O ci entriamo dentro? Cosa dobbiamo fare? Non lo so, che dici? Forse. Ok, bastava. Pensavo dovessimo prendere qualche provettina. Talmente letale che appena la tocchi, collassi. Esatto, esplodi. Velocissimi in un altro livello, Fere. Velocissimi in un altro livello. Vediamo un pochettino. Siamo al numero 16. E questo è un circo, Fere. Verremmo sbranati da una tigre. Eh... No, non lo so, magari da... I tuoi punti zero. Ci sono begli esplosivi. 5, 110.000. Ok. Mi state chiedendo di giocare? Ci sono... Allora, prima di tutto. Siete sicuri che mi volete far giocare? Ok. Ci ha dato un ticket. Il ticket a cosa ci sei? A consegnarlo. 5, però ne servono. Adesso ne ho un punto. Vabbè. Guarda, guarda. 2. Pensi che ce li dia tutti? Ok, ok. Facile. Ecco la nostra cermata bloccata. Eccola qui, eccola qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, qui ho notato che ci sono qui cosi e qui dai pugni. Vabbè, io sono bravissimo a questo. Lo sai? Vai, ti fai vedere. No. No, 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 no. Ah, no, non ci serve. Certo, perché imbrogli. Capito? Ma dici? Sì. Vedi? Ma non ne stai prendendo una? Beh, meglio che con le palle, secondo me, Fere. O no? Non ne sono sicura, Steph. Le stai sbagliando tutte. Fere, è difficile. Guarda quanto vanno veloci. Guarda se sei proprio in un tempismo sbagliato e stai continuando a sbagliare tutto. Cambio tempismi. Chissà, secondo me devi fare un tot di punteggio e con tre palle non potevi farlo. 100 di ticket, Fere. Sto avendo una ragione incredibile oggi. Guarda che questo livello l'ho capito subito. Benissimo così. 100 punti. Mitra. Ok, che facciamo col mitra? Lì, lì, lì. Vengo al game station. O è vuoto questo? No, questo è vuoto. Ok, proviamo. Vado? Vai, 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 vai. Fuoco! Allora, devi fare più di 20. Più di 20 sicuro? Beh, stiamo già a 20 adesso, Fere. Sì, sì. Direi che col mitra è un po' più easy. Ok, 25. Bellina questa idea che devi citare con vari armi per riuscire a fare i punti per sbloccare i ticket OP. Ok, siamo a 50 e ancora non bastano. Quanti ne vuoi? Fammi capire. 70 non bastano. Forse 100 per 10.000 avrebbe senso. Ok? No, bastato. 85 andavano. Ok. Questo? Ah, 5.000. 5.000. Quindi lo dobbiamo fare da due. Dobbiamo farlo due volte? Due volte. Due volte. Due volte, Stef. Va bene. Altri 5.000 punti. Sbloccato il nostro bellissimo RPG. E che ci facciamo? Miriamo nei piedi. Ah, così. Alla vecchia maniera. Io pensavo dovessimo sparare qualcosa che mi ti cadeva in testa, invece proprio... No, 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 ci siamo sparati nei piedi e abbiamo posto fine al nostro sogno del circo. E adesso c'è una mucca. Numero 17, una mucca. Mi sembra interessante, dai, ci sta. Bene, che se vi piace, lasciateci un bel like. E se la prima volta che vi vedete il nostro video potete consigliare al link di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!